Sparatoria ieri sera in uno stabile in piazza tedesco al quartiere Paolo VI di Taranto. E' stato ferito un uomo di 25 anni mentre tornava a casa all'interno del portone. L'episodio si è verificato poco dopo le 20.30. Sono stati esplosi ben nove colpi d'arma da fuoco di cui cinque sono andati a segno ferendo la vittima ai glutei, a un avambraccio e alle gambe. Una vera e propria pioggia di fuoco. Sul posto la polizia di Stato e gli inquirenti sono alla ricerca della pistola usata nell'agguato e stanno dando la caccia al sicario. L'uomo ferito è stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata con un'ambulanza ed è stato ricoverato in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita.